Intervenuti per la segnalazione di un pacco sospetto nel vano scale di un condominio di tavernelle di Serrungarina, i carabinieri di Saltara hanno rinvenuto un involucro in una canalina dell'impianto elettrico. All'interno c'era un revolver in cattivo stato di conservazione, ma perfettamente funzionante, con matricola a brasa e sei cartucce all'interno. Continuando la ricerca, i militari hanno trovato una scatola contenente altre 44 cartucce. Gli investigatori poi hanno piazzato una telecamera e sostituito all'arma con una giocattolo, per rendere credibile la scena e allontanare immediati sospetti. Dopo alcuni giorni l'impianto di videosorveglianza ha ripreso un uomo che ha raggiunto il sottoscala, ha preso la pistola e si è allontanato. A quel punto sono partite le attività necessarie ad identificarlo. Si tratta di un 42enne nato a Torre del Greco e residente in provincia da qualche anno, è un operaio edile e collaboratore scolastico a chiamata. Lo scorso settembre era già stato protagonista di una violente lite con la ex moglie e per questo gli erano state ritirate per precauzione tutte le armi che possiedeva. L'uomo è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione sia personale che domiciliare. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato 13.000 euro in una cassaforte, una cifra spropositata in relazione al reddito e alle condizioni di vita. Alla presenza del suo legale l'operaio ha reso spontanee dichiarazioni fornendo una versione dei fatti inverosimile. Ha raccontato che la pistola sarebbe stata acquistata a Napoli vicino alla stazione ferroviaria dopo essere stato avvicinato da un rumeno, forse un albanese, conosciuto occasionalmente. Richiesti 100 euro, trattativa chiusa a 20. Sui soldi trovati in casa ha detto invece che la somma sarebbe frutto di una colletta familiare, fatta durante le vacanze natalizie, custodita dal 42enne in attesa di essere consegnata ad alcuni parenti che risiedono in Lombardia. La pistola sarà inviata a RIS per verificare se sia stata utilizzata per commettere reati nel territorio nazionale, mentre le munizioni e la somma di denaro sono state sottoposte a sequestro. Inoltre, siccome sono venute meno le condizioni di tempo per procedere all'arresto in flagranza di reato, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per possesso di arma clandestina.